Questa qua la metti fuori e la metti subito un'altra una richiesta si sono fuori e mi sento dimmi le novità canale il gruppo serbatoio un secondo che vado dentro per vedere le protezioni qua c'ero già si quindi la parte di regione questa parte qui della carrenatura la parte sopra scarmito questa parte che si è si come ora non 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 Grazie a tutti. 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 Nel frattempo mi sposto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.